Ad alcune persone capita di avere un'eccessiva sonnolenza durante il giorno, oppure di perdere improvvisamente le forze a causa di un'emozione. Sono questi solo alcuni dei sintomi della narcolessia, una patologia del sonno che ci siamo fatti spiegare da un vero esperto, il professor Giuseppe Plazzi, che abbiamo incontrato a Roma in occasione del congresso nazionale della Società Italiana di Neurologia. Professor Plazzi, innanzitutto, che cos'è la narcolessia? La narcolessia è una malattia rara, una malattia del sonno, che è caratterizzata da una sonnolenza patologica e da alcuni sintomi satellite che tipicamente la contraddistinguono. Il primo è la cataplessia, ossia dei cedimenti improvvisi, perdite di forza, scatenati dalle emozioni. Questo è il sintomo patognomonico. Inoltre, poiché la narcolessia è caratterizzata da un'emergenza atipica della fase dei sogni, del sonno REM. Ci possono essere altri sintomi, quali sono le allucinazioni al momento del risveglio o all'addormentamento, quindi le allucinazioni ipnagogiche o ipnopompiche e le paralisi del sonno. Questa sensazione di essere paralizzati nel momento in cui ci sta per addormentare. Senti, professore, questi sintomi quanto frequenti compaiono, cioè quanto sono presenti nella vita di queste persone? Questi sintomi, ci sono una varietà di gravità della sintomatologia, tuttavia questi sintomi, soprattutto all'inizio dei sintomi e soprattutto del bambino, quando di solito la malattia inizia, sono estremamente frequenti, tanto da impedire ai bambini di andare a scuola, di studiare, di avere una vita di relazione normale, una socializzazione normale. E soprattutto le cadute sono dei sintomi che spesso conducono a diagnosi sbagliate, diagnosi di epilessia, diagnosi di disturbi al movimento. Quanto è frequente questa patologia? Ci dà qualche numero? È una malattia rara, ossia circa 3 casi ogni 10.000 abitanti, dai dati epidemiologici. I dati reali di prevalenza in realtà sono molto più bassi, è una malattia, in Italia dovrebbero esserci tra i 15.000 e i 20.000 persone affette, diagnosticate, in realtà forse nemmeno 2.000 persone hanno una diagnosi corretta. Quindi i malati sono tanti, ma quelli conosciuti sono pochi. Come mai c'è questa, appunto, questo divario così grande? Sì, questa è proprio un'altra caratteristica della narcolessia, cioè un'età media sia negli Stati Uniti che in Europa che trascorre dall'esordio dei sintomi alla diagnosi che è di circa 12-15 anni. Quindi esordisce in età pediatrica, ma la diagnosi corretta avviene in età adulta. Tant'è che a volte ci sono persone che hanno diagnosi di disturbi di apprendimento, di depressione, epilessia che se ne portano avanti per anni. Forse non è ben conosciuta, ne dico di famiglia, ma forse anche dal neurologo mi viene da pensare. Qual è la sua opinione? Beh, direi che la mia opinione purtroppo è così. Nell'interesse dei sintomi, la sonnolenza viene spesso sottovalutata e vengono sopravvalutati alcuni disturbi del movimento, disturbi comportamentali che conducono alla diagnosi sbagliata. I sintomi non vengono visti nella loro complessità, anche se esistono dei marker biologici che consentono di definire la diagnosi con estrema facilità. Uno è lo studio del sonno con il test di latenza di multiple addormentamento ed uno è la rachicentesi che consente di dosare una sostanza che è l'orexina che è insufficiente, molto bassa, dei livelli molto bassi nelle persone affette con una colesia. E questi due esami hanno una sensibilità e specificità altissime. Siete, professore, di recente ci sono state delle novità riguardo l'ezopatogenesi della malattia, cioè si è capito un po' meglio come mai insorge la malattia, ce lo può spiegare? Come mai non è ancora spiegata come mai questa malattia insorga, è una malattia misteriosa, tuttavia fino agli anni 80, nello scorso secolo, 1980, è noto un'associazione con alcuni antigene di istocompatibilità. Tutti i narcolettici hanno un marker che è HLA, che è il DQB10602. Questo è un indizio verso una estilogia autoimmune che forse ultimamente è stata dimostrata da un articolo appena uscito su Nature del gruppo svizzero, il professor Bassetti e i collaboratori che dimostra la presenza di cellule linfociti T, i globuli bianchi, autoreattivi, quindi sensibilizzati verso l'organismo nelle persone con la colesia. Passiamo alla terapia, ci sono dei farmaci in grado di curarlo o perlomeno di tenerla sotto controllo, professore? Sì, ci sono farmaci che sono registrati in Italia, alcuni sono registrati in Italia, altri no, sintomatici, quindi sono efficaci sui sintomi, non sulla causa della malattia e sono degli stimolanti per la sonnolenza e dei farmaci che potenziano il sonno notturno migliorando di conseguenza sonnolenza e catapressia. I farmaci registrati in Italia sono il Modafinil, il Pitolisan, che sono entrambi i stimolanti, il Pitolisan è il secondo, è anche efficace sulla catapressia e il Sodiosibato che è un farmaco potente e gabaergico, quindi crea un sonno molto profondo ed è efficace sia sulla sonnolenza che sulla catapressia. Sì, professore, che messaggio possiamo dare al medico di famiglia in modo tale che il sospetto diagnostico ci sia qualche volta in più rispetto a quello che c'è adesso? Cos'è che dovrebbe metterlo un po' sul chi va là? Sì, questo è un altro punto molto interessante, tant'è che assieme all'Associazione dei Pazienti e assieme all'Istituto del Superiore di Sanità, un gruppo di esperti, compresa anche esperti della SIN, ha elaborato recentemente delle red flags, degli indizi per poter riconoscere questa malattia. Sono innanzitutto diversi dal bambino e dall'adulto, nel bambino prevalgono i disturbi del movimento, l'obesità anche, perché mi sono dimenticato prima, questa malattia anche cambia l'assetto metabolico delle persone, per cui spinge in qualche modo l'accelerazione puberale, maturano a volte anche una pubertà precoce a questi bambini, una obesità, una sonnolenza e questi tipici disturbi del movimento, soprattutto che coinvolgono il viso, un'ipotonia del viso, un abbassamento delle palpe, una tendenza ad avere la bocca aperta e una protusione della lingua. Mentre nell'adulto sono però i sintomi combinati della cataplessia, cioè dei cedimenti muscolari scatenati dalle emozioni e della sonnolenza, sonnolenza che tipicamente nella cataplessia è caratterizzata da pisolini, bisogno di sonno in momenti inappropriati, ma il sonno è breve e ristoratore e questa caratteristica è tipica solamente della cataplessia, della cataplessia.